ciao allora oggi prodotti per il corpo e vi voglio parlare del autobronzante queste sono le gocce magiche della collistar sono le gocce magiche autobronzanti è un concentrato autobronzante 125 ml e da qualche parte c'è il prezzo ecco 24 49 sui 25 euro ecco allora questo è uno dei pochi autobronzanti che intanto non ha una profumazione troppo caratteristica d'autobronzante è un gel e bastano poche schiacciate da applicare bene sulla pelle asciutta e magari prima fate un po di gommage così toglie le cellule morte e le spessità della pelle comunque bastano poche gocce è un gel si applica velocemente sul corpo bene a modo asciuga molto velocemente e lascia un colore uniforme e lo trovo davvero molto buone intanto non macchiano non hanno quel profumo caratteristico da autobronzante non hanno un colore arancione ma un colore molto e sembra una bronzatura molto naturale e poi ha una bronzatura molto leggera quindi si può rinnovando l'applicazione tutti i giorni tendere ad aumentare il colore che si vuole ottenere mi raccomando sempre applicarlo bene a modo velocemente su tutto il corpo su tutta la zona massaggiate bene e poi lavatevi le mani oltre a questo che è molto molto valido io vi consiglio eccola qua di applicarlo con questi guanti in spugna si trovano in commercio di vari marchi questo era vita liberata ma l'ho trovato anche da kiko e si trovano in vari negozi lo trovo dai cinesi si trova un po ovunque questo è un guanto è rimasto macchiato ma è un guanto eccolo qua che se andiamo applicarci il prodotto e poi lo stendiamo va ad applicarlo sulla pelle in maniera molto uniforme e non si rischia assolutamente delle macchie quindi il guanto in spugna d'applicazione in combo con il contrario autobronzante in combo con il guanto davvero non rischiate macchie il colore è molto uniforme rieccoci ho cambiato la batteria allora comunque direi che vi ho detto tutto il possibile su questo prodotto che a me è durato una estate intera applicato sulle braccia e le spalle la parte che è più esposta ecco quindi tutta la parte superiore del corpo trovo che sia davvero molto valido so che c'è anche una formulazione per il viso vale provarla ma credo che sia molto simile e quindi un'altra cosa da provare che mi spiera queste sono le gocce magiche abbiamo detto della colistar per il corpo e le trovo validissime ve l'ho detto non sono arancioni non macchiano e dopo ve le applicate asciugano velocemente ma aspettate comunque cinque dieci minuti prima di vestirvi così siete sicuri che non macchiano nemmeno i vestiti non puzzano come i soliti autabronzanti e oltretutto ho trovato che idratano anche la pelle quindi straconsigliato fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come vi siete trovate io come sempre vi è stata utile e se vi è piaciuto il video mettimi un like iscriviti al canale e clicca sulla campanella così verrai avvisato quando pubblico le prossime recensioni e alla prossima recensione beauty ciao ciao